Siamo qui a Palma, la presentazione Fusion, la nuova gamma l'abbiamo ribattesata Apollo perché è il dio della musica, il bello dell'Apollo è avere più stereo che si linkano a vicenda Replicare la stessa musica sulle varie zone della barca, quindi dà l'indipendenza a chi sta sul fly di sentire una musica, sul pozzetto di sentire un'altra, chi sta sul predisore, di sentire un'altra ancora si vuole fare il party, abbiamo questo protocollo che abbiamo ribattezzato Party Bus per poter linkare tutte le zone insieme e riprodurre la stessa musica su stereo differenti collegati a speaker differenti nelle varie zone della barca Il bello dell'Apollo è che le sue features, la sua flessibilità ci permettono di soddisfare anche i clienti sopra i 50, 60, 80, 120 mili Le sorgenti sono innumerevoli tra FM, radio digitale DAB, USB, Bluetooth, Apple Airplay, cavo ottico perché abbiamo sul 770 e sul nuovo 670 la possibilità di configurare la televisione quindi se noi volessimo mettere un concerto su YouTube, sul nostro Smart TV oppure anche la partita di calcio e sentire la radio cronaca su tutta la barca lo possiamo fare tranquillamente collegando semplicemente con un cavo ottico lo Smart TV al nostro stereo Grazie